Ricordi, profumi, sapori attraverso i quali far rivivere l'amata nonna e proiettare il lettore sul filo della memoria in una storia di altri tempi, ambientata nei luoghi della campagna lucchese con i suoi riti, i suoi usi, i tanti mestieri oggi dimenticati. Questo è il mondo attorno a cui ruota il secondo romanzo di Alberto Di Riccio, ad Algisa, una nonna politicamente scorretta, edito da Maria Pagini Fazzi, editore. In sintesi è la storia della vita della mia nonna e anche qualche episodio di prima della sua nascita a Valgiano e nei paesi della Lucchesia, a cominciare dalla fine dell'Ottocento arrivando fino ai giorni nostri. L'opera fresca di stampa è stata presentata a Palazzo Ducale nell'ambito dell'iniziativa organizzata dalla provincia, in collaborazione con la casa editrice, per la serie di eventi Una Primavera di Libri. In sala con l'autore il critico letterario Daniele Luti e il giornalista e scrittore Alan Friedman. Questo libro di Alberto Di Riccio è un autentico pezzo della Lucchesia, è la storia dei contadini di Valgiano, è la storia delle ricette della nonna e soprattutto mi dà un senso di famiglia, mi piace molto.